e benvenuti a tutti ragazzi benvenuti in questo video il video del 25 sono questo video e in cui ragazzi siamo nel terzo episodio di qualche recolzetta e vi dico nella scorsa puntata abbiamo continuamente perso contro il real per 2 a 1 e il valente 3 a 1 e sarà anche perso 3 a 0 con se via oggi andremo a giocare contro il granada e l'attacco come vedo e quindi ragazzi iniziamo la partita con il granada poi fissiamo le formazioni e noi scendiamo in campo e forza salta e vaspas tira la figlia e vaspas tira e vaspas vale si vale inizio c'è stato vigo granada c'è stato vigo granada e vaspas e vaspas e vaspas e vaspas che è questa cosa, è un matico bulla, è un matico, è un matico bulla, è un matico è un matico, è un matico è un matico è un matico sforo un matico non è che ci smacassi ci smacassi 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 la cissa la cissa la cissa la cissa respinge non dimmi c'è la riga prendi Maldini invece c'è la riga c'è la riga e se farlo non ha piuttosto ne fischio non ha piuttosto ne fischio e se farlo e se farlo benassi 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 la respinge il tema a cissa la respinge cerco di la fine 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 finisce il secondo tempo 0-0 seconda si attavica in granada mi c'è il secondo tempo vai sono pronti per aver guardato un po' di nuovo, come la seconda parte comincia. Oh no. Oh no. Oh via. Buongiorno I'm sure we're going to get an absolute bell to Derek Carlos Fernandez Machis has it I'm told the T's have been crossed and the eyes have been dotted on this contract deal done Rodrigo has completed his move to hoffenheim Well Derek a figure around 35 million pounds has been banded around I'd say you're getting a lot for that sort of money. He should be a real asset to the club Quartas into the advanced position And the cross is very much on I just couldn't keep the ball Firing it towards goal Almost what you might call a jaw-dropping save Oh, he's got no right to make that save. It's absolutely fantastic Let's change Let's move Well, I'm going to kill him I'm going to kill him And a substitution in the offing And now the delivery And now the delivery Not to be advised giving the ball away there And that came off the defender So it'll be a corner Corner once more And firing it into the area And firing it into the area Not thinking of the ground scheme of things He's going to be terribly proud of that headed attempt Well heading practice and training next week That was pretty average to be fair Well Derek You can sense the frustration growing from the fans That leads on to the players being frustrated too You can sense it Can they get the goal The timing of the pass The timing of the pass That little bit off Machis has it This was Carlos Fernandez Getting anxious Getting anxious when they have the ball Quick thinking to dispossess his opponents Well that's very smart defending And now they have the ball again Oh they've lost it Victor Diaz And scope for them to produce something exciting Another cross that will live long in the memory Goal kick Well they've been getting the substitute ready And now they will make the personnel change Carlos Fernandez Victor Diaz And only two minutes remaining here A good day And maybe one who's in this stage might well turn out to be decisive The cross is on It was a fine looking attack But now they've given the ball away Va bene Pered traference and intercessive Very quick thinking there Fade in ganzerai ZeraFera But then Granada Unputo è 59 non siamo qui davanti l'atletico però ma di venire in panchina la Martínez il sorvigno contro l'atletico partita tostissima il sorvigno contro l'atletico 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 l'atletico il sorvigno contro l'atletico il sorvigno contro l'atletico il sorvigno contro l'atletico il sorvigno contro l'atletico Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Carrasco. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Blanca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parliamo. 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 conto le spagnole, quindi ragazzi il video già finisce qui, siamo quasi da parte del conto di granate da 0 al 0, siamo sul senso del giusto, la passiamo di conto le spagnole del Leymar, quindi ragazzi, che dire, bella è tutta, non ci la passiamo via, non ci la passiamo via, tutta, ci vediamo.